Entro perfetto! Li abbiamo fatti secchi al colloquio! Quando Bloodgood ci presenterà come gli ufficiali addetti alla sicurezza, saremo i più popolari della scuola! Pensi davvero che sceglierebbe dei tipi come voi? Come no! E avremo l'autorità per poterti mandare in presidenza quando ci pare e piace! Il compito è di tenere il corridoio al sicuro! Avanti, proviamo la nostra camminata da addetti alla sicurezza! Allora non importa della scuola. Il prossimo! Io sono un gargoyle. La mia natura essenziale è essere forte, orgogliosa. Fare l'addetta alla sicurezza non è solamente una questione di apparenza, anche se questo distintivo è piuttosto appariscente. Signora Preside, non voglio questo compito per gratificare il mio ego. Io non la deluderò. Davvero, si fidi? Monster Eye, il mio compito è tenervi al sicuro che si tratti di un semplice ingorgo... ...o di draghi sfuggiti alle catacombe. Io sarò sempre vigile. Lo sai che non devi usare amuletti magici dentro la scuola. E come dovrei passare il compito di morsologia? Studiando, forse? Oh, d'accordo, non lo userò. Merci. Non abbiamo bisogno di permessi. Tu sei il nostro permesso permanente! Non posso credere che volevate sfruttarmi così. È contro le regole della scuola rianimare vecchi mostri. Senti, Rochelle, non potresti chiudere un ombio? Sarò il tuo buon amico per la pelle. Sono spiacente. Amici miei, combina guai. Oh, che brutta sensazione. Forse questo compito non fa per me. Signora Preside, mi dispiace. Congratulazioni! Hai superato la prova. Volevo essere certa di poter contare su di te anche quando i tuoi mostri amici per la pelle ti avrebbero chiesto favore. Scusaci, ma eravamo sicuri che ce l'avresti fatta. Così non solo ti darò il lavoro, ma ti promuovo anche capo della nostra nuova squadra di sicurezza. Il prefetto Barnes farà porto al suo capo. Domanda, e adesso chi proteggerà la scuola degli addetti alla sicurezza? Questa collana è spaventosamente stupenda. Lo so, è davvero bellissima. Me l'ha regalata Claude. Me la faresti provare? Va bene, ma prometti di stare a... Oh no, è caduta nell'abisso profondo. Mi dispiace tanto, te la riprenderò, promesso. Oh no, forse non hai capito bene. È caduta nell'abisso profondo. È sparita per sempre. Fate silenzio. Come mai parlate dell'abisso profondo? Ho fatto cadere la collana di Draculaura laggiù, ma io andrò a riprendere. Nessuno, nessuno può scendere nell'abisso profondo. Come mai tutto questo mistero su l'abisso profondo? Ah, l'abisso profondo. Frankie, la piscina della Monster High è la più profonda del mondo. Nessuno sa cosa si aggira laggiù in fondo. Beh, io ci andrò. Tutto questo è successo per colpa mia e io rimedierò. Oh, non sentirti in dovere di farlo. Dirò semplicemente a Claude che... che... Io l'ho persa. No, 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 vedrai. Metterò tutto fuori. Se andrai tu, verrò anch'io con te. Non capisco proprio dove sia il problema. L'abisso profondo sembra così carino. Guarda qui che bel fiore. Quello non è un fiore. No! Ho preso la collana. Aspetta! È entrato qui. Ci sono tantissime cose là dentro. Ehi, tu! Dammi indietro la collana! Frankie, non ne vale la pena. Frankie! Non ti hanno mai detto di non metterti contro un vostro con i fulmini. Ora, dammi indietro quella collana! Oh, grazie, grazie mille. Lavorando insieme abbiamo superato le nostre paure e reso un favore a tutta la scuola. Vedi? Oh, che bello! La mia calcolatrice è T97X4. Oh, pensavo che non ti avrei più rivisto, piccola mia. Ciao, Abby. Sei pronta per gli esami di fine anno? Va tutto bene? Sto bene. Felice come Pasqua. A guardarti sembra che tu abbia pianto. Io? Mai e poi mai non sono triste. Devo andare, faccio tardi a lezione. Abby, aspetta! Ma che le prende? Questo è il periodo dell'anno in cui tutte le ragazze del villaggio di Abby affrontano una grande sfida all'Himalaya. Si nutrono dei frutti della terra e devono superare svariate estenuanti prove fisiche e mentali. Vinto io! Torna a tuo posto! È questa la settimana. Ho capito perché è tanto triste. Non è potuta andare per via degli esami. Poverina. Golia, per favore, non funzionerà mai. Oh, forse sì. Sì, parlerò io con Blood God. Che bella sorpresa per Abby. Ciao, Spiriti. Bisogno di aiuto per studiare morsologia? Oh, scusa, ma non possiamo. Già, abbiamo deciso di andare al cinema. È al centro. Ciao. Ciao. Frankie! Draculaura! È tutto pronti, buona volta. Ditemi che succede. Ta-da! Abbiamo parlato con Blood God. Puoi restare nella cella frigorifera tutta la settimana. Golia ha sistemato una webcam, così non perderai le lezioni. Sappiamo che non è esattamente come l'Himalaya, ma... Aspettate! Abby, non c'è niente di male a dirci che sei triste. Siamo tue amiche. Ciao! A dopo! Ciao! Ci vediamo! Ehi, Licky! Vuoi giocare con me a braccio di... Su, muoviti, Golia! Ho visto piramidi costruite più velocemente di quanto pedali tu. Per caso è ancora in ritardo? Oh! Lei ha detto tipo, non esiste, e io ho risposto, mi stai ascoltando? Oh, sì. Golia! Oh, wow! Mmm, bel motorino! Oh! 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 Dov'è il tuo motorino, Golia? Toralai l'ha rubato! Toralai, dà il motorino! Per comprarlo! Quello lì è il paese degli zombie! Oh! 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 Sono scioccolata! Sei una brutta gattaladra! Pensate che l'abbia rubato! No! Io volevo solo... Lavarlo! Farlo in favore! Assicurati di pulire tutti gli angoli difficili da raggiungere! Ma questo è il mio spazzolino! Oh! Che schifo! Oh! 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 Di cosa stanno parlando tutti? Non sai nulla tu! Quale mostro potrebbe fare questo alla nostra scuola? Come sai che si tratta di un mostro? Oh! Sei stato tu a farlo? Io no! È stato Holt! Quando mi sono svegliato ero ricoperto di prove! Quando Bloodgood lo scoprirà, Holt sarà espulso dalla scuola! E se Holt sarà espulso dalla scuola, sarai espulso anche tu dalla scuola! È probabile che mi stia già cercando! Non riesco a credere che abbia potuto fare una cosa del genere! Direi che l'ho beccato con le mani nel secchio! Non è possibile che Holt sia colpevole! Io ti aiuterò a dimostrarlo! Jackson! Vorrei scambiare due parole! Meglio che tu vada! Ci vediamo più tardi! Sì! L'ho visto ieri sì! Io non sopporto la musica alta! Che stava facendo? Portava via la vernice del retro della scuola! Grazie dell'aiuto, mister Ugretor! Ma perché sta a grida? Le mie orecchie sono molto sensibili! Davvero non posso credere che sia stato lui! Nemmeno io! Jackson, Jack! È inutile nascondersi! Desidero parlare di Holt con te! Lo so! Ha danneggiato la scuola! Quindi si vuole spellere tutti e due! Danneggiato? Avevo chiesto a Holt di disegnare un murales! Ma non ha ancora finito! Ho chiesto in giro e a quanto pare mister Ugretorpa ha spento la musica che stava ascoltando! Lo sapevo! Così, Jackson, se non ti dispiace, vorrei che Holt finisse il suo lavoro! Musica! No? No! Perfetto! Sto proprio bene! Laguna, preparati all'appuntamento della tua vita! Ciao, mamma! Ciao, papà! Sto andando a un appuntamento con Laguna! Lo so che è una creatura marina! So bene cosa dicono a proposito di loro! Ma Laguna non è così! È meravigliosa! Lei è davvero diversa! Mi avete sempre detto che le creature marine sono mostri meschini e maligni! Ma Laguna è lo spirito più dolce e più sensibile che abbia mai conosciuto! Poveri piccoli fratelli verdi! Il nostro cuore non batte forse allo stesso modo! Se ci pungete non sanguiniamo dello stesso sangue verde! Mi avete ripetuto che le creature marine sono sleali e traditrici! Ma Laguna è l'amica più fedele, sincera e protettiva che si possa avere! Davvero? Io ce l'ho messa tutta! Vedi, è proprio questo il problema! Non devi sforzarti, devi essere naturale! Sì, te stessa! E vedrai che farai sempre! Già! Gulia è proprio in gamba, vero? Ma no! Non sei troppo stupido per lei! No, 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 no! Vedrai, metterò tutto a posto! Se andrai tu, verrò anch'io con te! Lavorando insieme, abbiamo superato le nostre paure e reso un favore a tutta la scuola! Cosa? Vi ostinate ancora a credere a quei pregiudizi vecchi di secoli? Vi sbagliate di grosso! Non ho intenzione di non vederla più, quindi è meglio che ve ne facciate una ragione una volta per tutte! Ops! Ho dimenticato una cosa! Va bene, allora... Ciao! Non farò tardi! Monster High, grande scuola, grandi problemi! Ci sono millenia di storie diverse in un posto come questo, è il mio mondo! Mi chiamo Spectra e mi occupo di notizie! La verità è sempre da qualche parte e io sono l'ombra sgusciante che la troverà! Sono nel giro da più tempo di quanto ricordi e credevo di aver visto tutto finché lui non è entrato nella mia vita! Ho capito subito che quella fiamma sarebbe stato un problema! Ciao carino, hai da accendere? Mi chiamo Burns, Heat Burns! Devi aiutarmi, Spectra! Sono in un bel pasticcio e non so come venirne fuori! Sputa il rospo! Sai della statua scomparsa? Eh sì, certo! Vogliono incastrarmi, capisci? Deve riuscire a dimostrare la mia innocenza! Bloodgood mi butterà fuori dalla scuola, altrimenti! Ci riuscirò? Le prove erano inequivocabilmente fiammeggianti! Ottenere informazioni era difficilissimo! Sembrava che nella scuola tutti ce l'avessero con Heat per qualche motivo! E allora ho deciso di prendere il toro per le corna! Immagino vi chiediate perché siete qui! Sì, vorrei sapere! Sì, Spectra! Mi sembra una vera perdita di tempo! Lo sappiamo tutti che è stato lui a prendere la statua! Le tracce delle fiamme sono evidenzi! Tutti i presenti hanno un motivo di risentimento nei suoi confronti! Come te, Frankie! È vero che ha bruciato il tuo compito di morsologia la settimana scorsa? Come l'hai presa? Vale! Giuro che gliela farei pagare se potessi! Capisco! E tu, Toralei? Non ti ha rovesciato addosso l'acqua prima della foto della scuola? Claude Deuce! Quante volte vi ha messo in imbarazzo al centro commerciale? E non gli avete detto che gliela avreste fatta pagare? Ma non volevamo dire... Ognuno di loro aveva un motivo per vendicarsi! Allora, chi è stato? Pronto? Manutenzione statue? Oh, sì, eccolo! Spegnere le torce? Lunedì, d'accordo! Potete andare tutti! Finisce sempre così! Prima sembra che tutto il mondo voglia mandarti sul rugo! Poi all'improvviso ti ritrovi libero come un fringuello! A Monster High è così! Mi chiamo Spectra e mi occupo di notizie! E ora che la gazzetta dell'aldilà riveli alle ragazze le nuove tendenze da urlo... Un attimo, tirate le briglie! Guardate quello stallone che è appena arrivato! Un ragazzo nuovo! Ci risiamo! Dicono si chiami Archer! Un altro rivale! Ciao Zuccherino! Strano trovare un puledro come te in una scuola come questa! Non te la prendere, è troppo di campagna! Ti faccio vedere io come si fa! Ops! Oh, ma che gattina sbattata! Posso chiederti una mano pure al sangue? È proprio il mio tipo! Su, tesoro! Non ti ho nemmeno notata! Io lo terrò per le briglie prima di pranzo? Certo, nei tuoi sogni! Miau! Oh, qualcuno aiuterebbe questa povera gattina a scendere le scale! Ho deciso di trotterellare laggiù e pranzarci insieme! Vedi di tenere su le zampe, mio! Come hai osato? Ho osato e come? Dobbiamo farlo smettere! Stai impazzita? Puoi rovinare il nostro spettacolo dell'ora di pranzo! Vogliamo finirla una volta per tutte? Sì! Andiamo! D'accordo! Chi ti piace di noi due? Sai una cosa? Puoi tenertelo tu! Non è il mio tipo! No, ti ringrazio molto! Io merito un vero purtroppo! Sasquatch e Cadaver lanceranno la loro nuova linea invernale domani mattina e il mio minuzioso piano d'azione farà sì che io, e cioè noi, diventeremo gli spiriti più trendy di tutta la scuola! Perché invece non arriviamo super presto e aspettiamo dove dice il cartello? Perché questa è la svendita del secolo! Gli zombie si stanno addirittura accampando nel parcheggio! D'accordo? Allora, Draculaura, tu sei qui, Claudine! Tu cominci da qui! Il che ci porterà davanti alla fila esattamente quando aprirà il negozio! Tutto chiaro? Eh, sì! Possiamo andare a casa adesso! In effetti si sta facendo tardi! Oh no! Il centro commerciale è chiuso! Siamo chiuse dentro! Chiamiamo Gulia! Vediamo se riesce a craccare il sistema e aprire le porte! No! Se apriamo queste porte, rischiamo di perdere il nostro posto in fila! Un attimo! Passeremo qui la notte e così saremo le prime della fila quando apriranno le porte domattina! Mi dispiace, ragazzi! Forza, spiriti! Oh no! Guardate! Sono entrati! Gli zombie si sono già messi in fila per i saldi! La fila comincia dove indica il cartello, non è così? Sì, ma... Allora la fila comincia dietro di me! Dagli indietro quel cartello, Cleo! Mai e poi mai! I negozi stanno per aprire! Mi dispiace, Slow Moe! Ho io il cartello, quindi sono la prima! Dice che vuole fare un regalo a Gulia! Che romantico! No! Io! Ho detto che ero! Io! Ma Cleo, anche seconda va bene! Seconda? Io? Adesso basta! Questo idolo ha il faraonico potere del teletrasporto! Tutto ciò che devo fare è lasciare che ti sfiori in questo modo e... Ultima! Ultima! Ragazzi, attenzione! Non avete mai sentito la parola permesso? Il secondo copio avanti andava di modo a tre vite fa... Fa centro, fratello! Ehi! Ma che fate? Io dico, scappiamo! Amico, quello era fallo personale! Molto personale e molto falloso! Attende! Ehi! Dobbiamo assolutamente riqualificarci per le nazionali dei mostri! Pensi che le abbiamo seminate? Direi proprio di no! Attenzione a non barcollare! Quando preparate una porzione per l'invisibilità, state attenti a dosare ciascun ingrediente... ...o le conseguenze saranno spaventose! Come piova! Allora, suppongo che non sono invisibile! Cambiera bianca! Ammettetelo! Vi avevamo quasi seminato! Oh, proprio una gran bella corsa! Un inseguimento di prima categoria, oserei dire! Siamo andati ancora meglio di ieri! Abbiamo ancora due minuti prima che inizino le lezioni! Ne facciamo un altro? Attenti! Ehi! Ragazzi, trovatevi un nuovo hobby! Non sono mai stata a Pijama Party! Ah, i Pijama Party sono fantastici! A volte stiamo svegli tutta la notte a chiacchierare! E a truccarci a vicenda! E anche a farci le unghie! E a parlare di ragazzi! Non vi dimenticate di Monodraculopoli, però! Che cos'è Monodraculopoli? È il gioco che piace di più a Clio! Ci giochiamo tutte le volte che facciamo un Pijama Party! Sai com'è? Finora ho sempre vinto io! Tre, quattro, cinque! Carta degli imprevisti diabolici! Uh! Perdi 500 punti! Sei eliminata! Ah sì? Uh! Cioè... Uh! Che peccato! Andrò a chiudermi in bagno a piangere! Un troll di montagna ti rovina capelli e trucco prima della foto della scuola! Clodina è eliminata! Uh! Meglio che me ne vada di là prima di fare una scenata! Aspetta, hai ancora una carta! Puoi continuare a giocare! È vero! Ho una carta penalità doppia, quindi posso eliminare un altro concorrente insieme a me! E scelgo Frankie! Ah! No! Siamo rimaste soltanto noi due, Abby! Tocca a te! Purtroppo sei finito nel pozzo di fuoco e... Un momento! Prego! Ho carta in versione reale, facciamo a cambio di posto! Adesso ci sei tu nel pozzo di fuoco! Cosa? Non è... Questo non è... Possiamo fare una breve pausa? È stata bella mossa, no? Ci piace giocare a monodraculopoli, ma Cleo è super competitiva! L'unica soluzione è lasciarla vincere e basta! Che senso ha giocare se bisogna far vincere lei? Cavernicolo in tassa tuo computer e perdi un giro! Un mago maledice il tuo guardaroba! Arretri di cinque caselle! Nufa dei boschi clona tuo cellulare e perdi mille punti! Finita, sei eliminata! Ho vinto! Oh, grande ra! Finalmente! Un avversario degno di me! Continueremo a giocare tutta la notte! Giusto! Sì! Che bello! Molto bene, Kulia! E nella trasmissione di domani avremo Cleo de Nile! Ricordati, Cleo, dovrai fare tutto a memoria! Niente appunti, niente ricette! Va bene! Le raccette della dinastia de Nile! Oh, ciao, spirito! Cosa? Oh, raccontami tutto! No! 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 Sì! Va bene, forse! Come posso fare? Non ho niente! Gulia, è gentile da parte tua a prestarmi la tua ricetta di spaventoni al forno! Ma non riuscirò mai a memorizzarla per la lezione di domani! Ciao, ragazze! Ciao, Skara! Com'era il campeggio telepatico? Non ci sono parole per descriverlo! Il numero al quale sto pensando è tra... Sei e ventinove! Proprio da paura! Skara, Screams è telepatica! Sì, lo è! Posso darle le ricette di Gulia e chiederle di dettarmele stando fuori dall'aula? Skara è fantastica, ma sentire i pensieri di tutti le impedisce di concentrarsi! Deve semplicemente leggere le ricette come potrebbe sbagliare! Oggi vi faccio vedere come si cucinano i miei famosissimi spaventoni al forno! Va bene, Skara, ora leggimi gli ingredienti! Bene! Quattro tazze di latte intero! E si versano quattro tazze di latte intero! Una confezione di spaventoni biologici freschi! Quella tipa è così focosa che avrai bisogno di quattro litri di azoto liquido per raffreddarla! Quattro litri di azoto liquido! Quattro litri di azoto liquido! Il numero ventiquattro se la vedrà brutta stasera! Ventiquattro tazze di farina! Undici braccialetti a scatto e... Un cellulare! Adesso metto il tutto in forno e tra pochi minuti sarà... Pronto da gustare! Nel frattempo aspetto la mia appio... Ho scelto di fuori! Sto a fare fuori! Leggo che non sei molto contenta! Per questo non serve essere telepatici! Oh and monster monster high! Monster high! Monster monster high! Come on up you shy! Monster high! A party never dies! Monster high! Monster high! Monster monster high! Freaky shake and fly! Monster high! Our student body's gay! Ehm, freaky sky falling apart! Draghi lora, let's steal him! Grazie a tutti.